Pronto Mario? Chi è che parla? Chi sta muovendo? Chi è che parla? Senti, so uno che stamattina c'era la macchina posteggiata sul posteggio e muovendo una bozzata, porco Dio. Solo questo ti posso dire. Sì, ma pensate che sei sbagliato il numero, eh? Non ti ho sbagliato niente. Tu che macchina hai? L'850. Eh, è proprio la tua. Hai fatto un mercendiero e bozzato la macchina mia, porco Dio. Ma chi è? Che parla? Perché sei stato due dei buoni fatti, Mario. No, 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 no. Sotto, soffice un muro di targa, porco Dio. Che targa è? E biemi la targa, un attimo, eh? Ma chi è che parla? Sono... Birivilacco Antonio. Di dov'è? Sono del mondo di Giorgio. Ma porco Dio, ma... Uff, stia calmo perché sono il nipote. È tre ore che sta per stemmiare. Eh, sta calmo, eh? Cerca di mantenere la calma, eh? Allora, che sai che macchina giaccio io? Cerco la te, ma porco Dio. E me la... E va bene un pezzo di cazzo, porco Dio. A me non gli interessa niente. Cerca di stare calmo e mantenere la calma. Eh? Eh? Eh, fa poco lo sveglio perché te denuncio pure, porco Dio. Ma chi denuncia? Ma chi denuncia? Ma lo sai che faccio l'avvocato? Ma chi denuncia? Ma che sta dicendo? Ma cerca di stare calmo. Ha capito, no? Che viene qui lì si a bestemmiare. Se c'è un problema viene risolto, è chiaro, no? Che dice io, porco qua, porco là. Ma cosa fa? Cerca di stare calmo e gira le coste con la calma, è chiaro? Oh. Eh? Guarda che tu ti dici... E moita si scappava via perché sono fatta a tempo io e pia la nuova targa, porco Dio. Ma chi è che non c'è la moglie, ma? Eh? Chi è, ma che non c'è la moglie? Chi è che guidava? Una donna? Una donna, eh? Eh, allora non c'è perché io c'ho mio nonno. Non c'è una donna. Un vecchio era, porco Dio, non lo so chi era. Ma che... C'è la specie tua che può di fare di mare? Guardi bene. Che targa era? Che chi è? Può essere pure... Sei chi era? Eh. Può essere pure una puttana che l'ha caricato il nonno, tu. Ma che sta a dire? Ma quando è successo? Ma che sta a scherzare? C'è 80 anni, mio nonno. Perché? Eh? Perché non lo può fare? Ma che sta a dire? Ma che... Dove è successo? Ma vuole spiegare che sta a parlare in codice, eh? Oh, è successo quando il caffè stamattina, porco Dio. Ma poi che stai dove? Grazie a tutti.